Si è svolta anche quest'anno la veglia mariana internazionale dei giovani dal santuario di San Gabriele della Dolorata, giunta la sua quarta edizione consecutiva. Giunta la sua quarta edizione consecutiva, l'evento ideato e promosso dal vescovo di Teramo Atri, Lorenzo Leuzzi, ha avuto come sempre il suo fulcro nella recita del Santo Rosario da parte dei giovani di tutto il mondo. Nello specifico si sono uniti in preghiera con Isola del Gran Sasso le ragazze e ragazzi del Brasile, del Canada, di Haiti, Polonia e Slovenia. La preghiera è stata guidata dal Nunzio Apostolico in Italia. La prima volta che vengo per me è un gran piacere perché molte volte passo qui per andare a San Marino e altri luoghi e sempre mi sono chiesto che cosa mi hanno spiegato e perciò ci sono molto contento. Questa opportunità di salutare i giovani, di fare una preghiera con i giovani, questo è il proposito principale di questa visita, pregare insieme, incontrare i giovani, anche quelli che saranno connessi con noi via internet. Questo mi sembra un evento molto importante. Il Rosario è stato parte del Giubileo degli Adolescenti e dei Cresimandi e si colloca all'interno dell'anno giubilare indetto in occasione del centenario della canonizzazione di San Gabriele della Dolorata, avviato lo scorso 27 febbraio con l'apertura della Porta Santa e in corso fino al 27 febbraio del 2022. Questo è il momento della pandemia dove abbiamo di nuovo inteso che non possiamo fare tutto, che siamo limitati in tutte le nostre azioni e bisogna conoscerci anche come creature, che siamo figli e figli di Dio, questo mi pare molto importante e che ci chiediamo anche sul nostro destino e sul nostro futuro. Perciò è il momento di pensare a questo, ma anche di chiedere San Gabriele che interceda per noi, perché anche lui è stato interpellato per dare un motivo perché stava in questo mondo. Io penso che noi tutti dobbiamo chiederci perché sto qui, quale è la mia vocazione. In questo cammino, certamente, nostra signora ci accompagna e ci aiuti per trovare il destino giusto per la nostra esistenza.